Noi cominceremo con l'esporre i fatti come hanno fatto i nostri compagni, quindi partendo da una contestualizzazione storica che durerà molto poco e procederemo parlando anche della zona industriale, di come si è evoluta, di come si sono evoluti gli insediamenti di Marghera e di Mestre, guardando le cartine e la rielaborazione che abbiamo fatto in laboratorio e finiremo esponendo dei nostri progetti molto ingenui, in quanto noi non siamo qualificati per fare degli elaborati del genere, però ci piaceva l'idea e abbiamo fatto lo stesso, circa una possibile riqualificazione delle zone appunto dismesse della zona industriale. Siamo 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 Grazie. Allora, nella seconda metà dell'Ottocento abbiamo un completamento del collegamento ferroviario Milano-Venezia e alla fine dell'Ottocento abbiamo delle proposte per l'ampliamento del porto di Venezia alla Giudecca e alla Marittima. Poi tra il 1902 e il 1904 il progetto di Petit per il nuovo porto commerciale di terraferma consente a Venezia di competere con gli altri porti di Mediterraneo. L'estensione di Venezia in terraferma modificherà in modo rilevante il volo di Venezia che nel corso del Novecento subì a un costante perdita di industrie e di popolazione. Nel 1917 l'ingegnere Coencagli si occupa di proporre un progetto per organizzare l'area delle balene. La sua proposta prevede la costruzione di un porto commerciale affiancato comunque da un quartiere residenziale che comunque la sua funzione doveva essere quella di ospitare i lavoratori veneziani anche per comunque ovviare al problema della sovrappopolazione del centro storico che non riesce proprio a contenere la crescita dell'industria nel centro. Nel 1919, come dirò tra poco, l'ingegnere Pietro Emilio Elmer si occupa della realizzazione di un soborgo cittadino ovvero lui propone un modello di città giardino che appunto doveva ospitare tutti gli operai e dal 1922 inizia la costruzione della città giardino però comunque Venezia smette di finanziare le costruzioni e quindi il progetto è un fumo. Pietro Emilio Elmer si occupa del quartiere residenziale e si ispira al modello della città giardino che aveva già messo in pratica l'ingegnere inglese Pietro Elmer. Howard Questo modello di città giardino prevede delle case salubri e accoglienti perché la funzione delle abitazioni doveva essere strettamente legata al duro lavoro che dovevano affrontare gli operai che andavano nel centro storico a lavorare in condizioni comunque molto disagevoli. Era un progetto abbastanza ambizioso perché prevede l'altezza di massimo tre piani di ogni costruzione e tutte le costruzioni dovevano distanziarsi almeno di 15 metri. Inoltre comunque l'orto, il giardino privato di ogni casa doveva essere almeno quattro volte maggiore dell'estensione dell'edificio. Le strade invece che lui propone diciamo si era un reticolo di strade collegato a un lungo viale alberato. Il centro della città dovevano sorgere tutti i servizi pubblici col fine di favorire l'aggregazione di una comunità. Comunque Venezia smette di finanziare il progetto e quindi va in fumo e la connessione tra quartiere residenziale e il polo industriale quindi salta e quindi comunque gli successi, le criticità del suo progetto erano dovuti a problemi pratici. Ok, allora, parlando della seconda fase vi sono due date, ne abbiamo scritto una sola. Nel 1953 il progetto di ampliamento della zona industriale venne ampliato fino a Fusina cercando di connettere queste zone sia via terra che via mare via laguna più che altro via terra attraverso ovviamente la bonifica delle zone interessate e via mare, via laguna con la costruzione del canale di Malamocco Marghera la seconda data è il 1958 nella quale il consorzio iniziò la realizzazione dei lavori per questa zona però le aree erano 80% di proprietà della Montedison al tempo chiamata Montecatini Edison che instaurerà qui un polo di produzione petroarchinica scusate l'agitazione allora, la terza fase non venne mai attuata in quanto nel 1963 si riuscirono ad ottenere tutte quante le certificazioni necessarie per poter bonificare quella zona nel 1966 vi fu un'allumione talmente disastrosa che fermò i lavori e il progetto venne abbandonato questo fu uno dei motivi non quello principale ma comunque sia un aggravante che causò il declino dell'attività industriale nell'area del porto a partire dagli anni 70 qui possiamo vedere come una volta che venne abbandonato il progetto di Emilio Emmer che riguardava appunto la divisione degli spazi nell'area urbana di Marghera vi fu una ripresa di un altro piano che era stato messo da parte per favorire appunto quello di Emmer ossia il piano rosso che venne rivisitato e con questa sua messa su carta possiamo vedere come si cerca di riprendere l'ideale della grande Venezia ossia cercare di imprimere sul territorio una relazione di gerarchia che vede gli insediamenti di terraferma in subalternità rispetto al capoluogo ossia Venezia quindi l'espansione riprende davvero una direzione sempre più verso la fascia laborale come possiamo vedere appunto nel piano regolatori del 62 però questo non avvenne vedremo poi negli lavorati negli IGM come vi sia comunque questo tentativo attraverso tre vie in una delle quali ci troviamo ora però non venne mai realmente realizzato volevo dire in questa slide che nonostante le condizioni le condizioni di lavoro fossero veramente critiche in quanto non si era bene a conoscenza di tutti gli effetti malsani e negativi che molti delle sostanze utilizzate potessero avere sia sulle persone che sul territorio come l'amianto ad esempio i posti di lavoro erano veramente molti le condizioni degli abitanti migliorarono e sebbene attualmente il territorio sia presenti una grande cicatrice lasciata dalle aree del porto comunque sia questo periodo rappresentò un periodo di enorme espansione economica e anche ovviamente territoriale per le zone di cui stiamo parlando le soluzioni successive furono appunto quelle del piano rosso che venne ripreso si cercò appunto come vedete qui di espandere di nuovo la zona verso la fascia vagolare però come dicevamo il tutto non andò oltre la costruzione di queste tre strade che sono via Forte Marghera via San Marco e appunto via Torino qui appunto parleremo della successione dell'espansione del territorio rispetto al lavoro che abbiamo fatto durante i laboratori con la professoressa Mazzoleni partiamo da un po' di terminologia allora possiamo parlare inizialmente di elementi generatori distinguibili naturali ed artificiali naturali sono rilievi fiumi corsi d'acqua o bordi lagonali nel nostro caso ad esempio sono i corsi d'acqua come i canali che abbiamo nelle zone e i bordi lagonali appunto per chi ci troviamo nel residuo di una laguna e di una città molto importante Venezia che ricade però questa tra gli elementi generatori artificiali come lo sono i tracciati stradali nel nostro caso appunto siccome partiamo dal 1910 a considerare l'espansione territoriale che effettivamente è vicino al 1919 ossia l'effettiva nascita dell'area di Marghera non mi ricordo cosa volevo dire sì giusto parliamo di ferrovie e gli elementi ordinatori sono invece quelli che dividono le varie aree in questo caso parliamo di nuovo della ferrovia in quanto è un elemento che divide sia la zona industriale dal quartiere abitato sia le due città Marghera e Mestre per fare un esempio più pratico se tu vuoi fare dei centri commerciali di sicuro non li metti da due parti diverse della ferrovia li metterai dalla stessa parte per una questione logistica e questo è diciamo molto basilarmente che cosa è un elemento ordinatore allora partiamo dalla cartina del 1910 dall'elaborato che abbiamo fatto noi una piccola puntualizzazione qui c'è il forte forte Marghera che non viene sempre riportato negli igm naturalmente non è che sparisca e compaia all'improvviso è che per scopibilità riveniva occultato allora parliamo di questioni più pratiche possiamo segnare appunto qui la ferrovia in nero perché appunto è un elemento di interesse per ciò di cui dobbiamo parlare in questa cartina i due canali dai quali poi il canale Salso quello qui in alto e il canale Scolmatore dal quale il quale verrà interrato e nascerà sul suo tracciato via Fratelli Bandiera e qui è perché è un canale che appunto si ricollega a Mestre arriviamo una volta fino a Piazza Ferretto scusate e appunto è uno degli elementi generatori possiamo notare anche le aree dei magazzini generali più in rosso appunto è anche scritto nella leggenda che sono le aree in cui si svilupperà la zona in cui ci troviamo attualmente ossia quella di Vietorino e le strutture specializzate appunto se notiamo sono tutti magazzini negozi e comunque strutture molto importanti sia da un punto di vista della funzione che anche della grandezza fisica diciamo poi possiamo notare come inizialmente fossero le zone appunto della prima e della seconda zona industriale ossia naturalmente non bonificate comunque sia piene di canali e le aree limitrofe erano utilizzate per l'agricoltura agosto del 1910 nel 1927 invece vorrei sottolineare come il tracciato della ferrovia si stia espandendo nella zona industriale che appunto aveva iniziato ad essere costruita vi sono le prime strutture e soprattutto in questa cartina voglio far notare come ci sia una differenza tra l'area di Mestre e quella di Marghera quella di Mestre si presenta come disordinata spontanea diciamo perché appunto si è indonata senza un piano regolatore che decidesse la gerarchia degli spazi scusate le strade le case più che altro gli edifici nascevano in maniera spontanea dove serviva che ci fosse un edificio dove c'era lo spazio veniva costruito ma è bene invece grazie al piano di Emmer ha una struttura più ordinata più gerarchica appunto dicevamo che lo spazio pubblico viene pensato prima del privato a differenza di Mestre e questo si può tranquillamente notare vedendo come ci siano molte rotonde come siano ampi gli spazi come siano ampi le strade anche invece a Mestre è molto più compatta la struttura urbana è diciamo a pettine la ramificazione delle strade qui ho segnato appunto con il fratteggiato le differenze tra le due città diciamo e le strade generatrici che per Mestre è via Capucina per invece Marghera è via Fratelli Bandiera appunto nata dall'interramento del canale Scormatore nell'elaborazione del 1940 invece ho segnato intanto infratteggiato le aree destinate alla zona industriale per la quale si stava già facendo il progetto la seconda si intende un ulteriore ampliamento della ferrovia per far capire quanta importanza stesse prendendo il fenomeno dell'espansione industriale e soprattutto anche le altre due strade importanti di Mestre che sono Corso del Popolo e Via Piave che sono una continuazione dell'espansione iniziata con Via Capucina infatti sono anche parallele ad essa Via Capucina appunto è segnata anche qui tratteggiata per far capire che comunque sia rimane una strada principale nonostante ci stiamo concentrando su altre attualmente nell'elaborazione finale che abbiamo scelto quella del 1968 più vicino a noi quindi molto più facile per noi riconoscere le strade e ritrovarci più o meno vi è un'ulteriore naturalmente espansione della ferrovia non ho fatto notare come compatibilmente si stesse sviluppando anche la ferrovia la stazione di di Venezia appunto sono tornato inizia per farlo vedere ora che per cogliere l'occasione appunto con la scoperta scoperta con l'invecine dell'automobile vengono create anche le strade quindi vi sono molti raccordi molte strade costruite vi è appunto come dicevo prima un tentativo di riportare l'espansione di Mestre verso la laguna attraverso le strade appunto via Torino via Forte Marghera e via via Roma San Marco grazie li confondo sempre e vi è anche un raccordo con le vie principali dal lato di Mestre della Romea e magari scusate e dal lato di Mestre invece via Circonvallazione che si riconnettono appunto alle vie principali dopo di che sì questa è via dell'elettricità che è la principale via percorribile su quattro luoti diciamo della zona industriale e ho tracciato sempre in tratteggiato i nuovi contorni della seconda zona industriale qui arriva la parte più 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 pratica e più concettuale compatibilmente con le nostre idee appunto in quanto resteranno soltanto dei sogni però era comunque un'idea carina secondo me le principali criticità dell'insediamento di terraferma sono le aree dismesse che appunto sono dannose sia per gli agenti inquinanti presenti sul territorio sia perché sono comunque sia delle aree che comprendono edifici pericolanti e dismessi e che quindi sono un danno per l'ambiente e soprattutto gli spazi monofunzionali come lo sono la zona dei centri commerciali di Madera questo perché mentre in una città vi è comunque sempre vita anche la notte i parcheggi degli spazi monofunzionali quali sono i centri commerciali restano inutilizzati in un lasso della giornata e possono rappresentare un possibile problema dal punto di vista legale diciamo nel senso che è più facile che persone di malaffari chiamiamole così si ritrovino lì per compiere malvagità allora le iniziative già presenti sul territorio sono il parco scientifico Vega principalmente e appunto con insieme ai nostri compagni prima anche un secondo progetto sempre relativo al Vega di riutilizzo delle aree dismesse di bonifica e appunto di riutilizzo degli edifici già presenti vado a ricordare però che appunto c'è anche di giallo spazio dell'area del parco di San Giuliano che potrebbe rappresentare un ottimo punto di partenza per espandere l'area verde nelle zone che sarebbero naturalmente da bonificare inutilizzate allora la prima idea poteva essere quella di un campus sono andata questa parte è molto personale diciamo sono andata qualche anno fa a vedere a Norwich un'università e mi ha colpito moltissimo il progetto perché era letteralmente una cittadella dello studio siccome l'area interessata è molto ampia e guardando molti video su youtube foto ho notato che effettivamente le strutture possono avere una forma che può già essere quella di partenza di un'università di un dormitorio o comunque sia di aula e studio come ad esempio lo può essere anche semplicemente il padiglione dell'expo in cui hanno fatto da poco qualche fiera di fumetto e quindi è molto molto versatile come spazio e può essere utilizzato anche come area delle conferenze mi sembra una buona idea proporre appunto questo progetto di un campus all'interno delle aree dismesse essendoci già delle strutture presenti e possibilmente utilizzabile oppure un nuovo quartiere abitativo come quello della città magari interculturale infatti diciamo che è un problema di giorni nostri quello degli immigrati diciamo così creare degli spazi in cui garantire una vita dignitosa e da essere umano diciamo a delle persone che hanno necessità ma non necessariamente persone straniere anche semplicemente uno smistamento volontario chiamiamolo così dei nostri concittadini non saprei come dirlo e in qualsiasi caso creare uno spazio nuovo in cui poter dare degli alloggi a delle persone il problema è una continuazione del progetto di Parco San Giuliano e magari questo c'è un astilisco perché questo potrebbe essere integrato essendo l'aria veramente vasta con gli altri progetti in quanto nulla ci impedisce di mettere un parco all'interno di una città o di un campus i problemi dei vari progetti sono siccome non mi ricordo quali sono i progetti in totale devo tornare indietro per il campus sia i fondi perché servono molti soldi per poter comprare le attrezzature burocrazia quindi poter acquistare le aree anche semplicemente bonificare il territorio la messa in sicurezza e quindi servirebbe un finanziatore e comunque sia c'è comunque sempre questo problema della bonifica una possibile soluzione potrebbe essere quella di una partnership con un ente esterno come potrebbe essere un'università di un altro paese o comunque sia qualcosa del genere diciamo per il nuovo quartiere abitativo potrebbero esserci resistenze politiche all'interno della della regione diciamo così e questo potrebbe essere appunto il problema principale per il quartiere abitativo interculturale e per il pormone verde sarebbe che andremo a ricreare nuovamente un'altra area monofunzionale che però non è così grave con tre virgolette grave come lo potrebbe essere il parcheggio di un centro commerciale in quanto bene o male in uno spazio verde accessibile naturalmente ad ogni d'ora del giorno vi serve comunque una vita specialmente se lo si mette in centro città e tutto sommato questo era il nostro progetto ti amo grazie a tutti grazie a tutti